Allora, vediamo il servizio di Emiliano Condò. Ve lo immaginate oggi uno così? Sì, proprio oggi, con il nucleare tattico, la Brexit, la pandemia, la crisi climatica, ne avrebbe di cose da dirci John Lennon. Vedi che succede a non dare una chance alla pace? Ha provato a immaginarlo un fotografo, Alper Rieslitas, ma la domanda è un'altra. Che canzone avrebbe scritto? Con che provocazione avrebbe illuminato il nostro tempo da un angolo diverso? John Lennon, uno che la rivoluzione l'ha fatta, lui e Paul, i Beatles, amici, rivali, fratelli molto diversi. John e Yoko, arte e vita, l'utopia pacifista che lo trasforma in nemico, la FBI che lo controlla e forse lo controllerebbe ancora. E pensate che mentre noi consumavamo le puntine sui suoi dischi, John detestava la sua voce. Che poi è diventata la voce di un mondo, quello dei senza voce, Working Class Heroes. Vi avevamo promesso gli orsi, allora ecco...